Family Cinema a Polla presenta dal martedì alla domenica Colpa delle stelle con spettacoli alle ore 17, 19 e 15, 21 e 30. La Buta con spettacoli alle ore 17 e 30, 19 e 15, 21. Tartarughe Ninja con spettacoli alle ore 16 e 45, 18 e 40, 20 e 30. Family Cinema, zona industriale Sant'Antuono Polla. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS